Scarto, è l'economia che scarta gli uomini. Voi state dimostrando che un'altra economia è possibile. Nico Acamparo stasera è proprio il caso di dire è vietato calpestare i sogni. Pazzesco, sono arrivato qua agitatissimo, ho visto mille sedie, ho detto dove mi hanno portato, invece di vedere tanto entusiasmo, tanta partecipazione, tanta gioia, è un sogno, un sogno non calpestato. Che cos'è Pizza Out? Pizza Out è il primo ristorante in Europa completamente gestito da persone autistiche. È un luogo di speranza, di dignità, di futuro, di presente e tante cose. Tanti ragazzi che lavorano, quindi tutti ragazzi autistici, il 9 luglio ha altre dati importanti fra l'altro. Il 9 luglio presenteremo il progetto di Pizza Out, ossia questa flotta di truck food che può dare lavoro potenzialmente ad altre 500 persone autistiche. Pizza Out ha avuto l'onore di incontrare anche Papa Francesco? Un'esperienza incredibile, incontrare il Santo Padre, poter parlare con lui, addirittura fargli indossare il grimpino di Pizza Out, il Papa è stato straordinario. Quanto conta mettere l'amore in tutto ciò che si fa? Per me è l'unico ingrediente possibile nelle nostre pizze e nel nostro agire. Quello è l'elemento di base, l'ingrediente di base, poi arriva tutto il resto. Ma tu oliva, pizza, 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 pizza. Grazie. Grazie.